Ciao ragazzi, un saluto da Talfone e benvenuti in questo terzo episodio di Age of Wonder Planetfall con i nostri buoni nanacci che non li chiamerò mai come si chiama un aspetta D'Var una cosa del genere vabbè allora vedo che la serie vi sta comunque percicchiando io per cui me la continuo tranquillamente allora vediamo allora abbiamo sbloccato il tactical protection e praticamente come unit mod ci dà il purification field che è di tier 1 un modulo difensivo armatura praticamente ristora 10kp e rimuove tutti gli status non psionici che sono attivi sull'unità bersaglio si può usare una volta sola per battaglia allora vediamo un po che altro potremmo ok no aspettiamo questo mi interessa perché possiamo mettere le armature questo cosa fa vediamo oh carino però a me sinceramente interesserebbe sbloccare i difensori però intanto facciamo comunque questo che mi interessa questo ok perfetto associati abbiamo finito no stiamo facendo questo ok due turni boh allora tu perché sei in lavorazione sto facendo gli upgrade dell'unità è vero sto facendo gli upgrade dell'unità era fine turno questi quanti sono sono tre noctenum non abbiamo abbastanza punti di movimento vabbè allora facciamo così vi stanzionate qua questa se non mi sbaglio l'avevamo convertita in una cittadina indi per cui a questa le facciamo conquistare questo territorio qua e questo che andremo a conquistarcelo nel prossimo turno magari però facciamo un altro esercito lei la facciamo espandere qua prendersi lo special engineering center abbiamo due centri specializzati per la scienza ok order required tu resti lì anzi in realtà tu potresti muoverti qua e ti reintegri nell'esercito ok tanto lui mi va benissimo lì non ci sono problemi passiamo il turno ok perfetto l'abbiamo fatta nostra allora vediamo un po qua abbiamo special somatics lab giustamente siamo in guerra contro chi lo un po di slot per gli abitanti che producono cibo più 20 di scienza e più 2 di slot per la ricerca ci sblocca il come edificio costruibile il genetics lab ok ok allora ogni unità prodotta all'interno di della no di questa colonia qua avrà più 5 punti vita per tier di unità in aggiunta tutte le unità xeno moddate prodotte in questa colonia fanno il più 10 per cento di danno va beh non mi interessa più di tanto nella location abbiamo il gravity generator movement cost in Saturn is increased by 2 per x on the world map in combat all units have a slow movement speed ok xeno lab laboratory DNA volt occupied abbiamo anche un dna volt che ci dà più 5 e un teleport station che ci dà più 5 di sti cazzi unlock research xeno tech sample cazzo ci sblocchiamo una ricerca anche ok direi che ci sta ok reddorf cento friendly ok completed the builder io complete this task on round 12 object at a sector to your capital fat esploita con un sector fonda con reward the builder colon extracts require allora le le strutture della colonia richiedono il 20 per cento meno di posizione per essere costruite come reward ci apparsa un colono per cui ci può anche interessare abbiamo finito l'economista ok le strutture base costruite nelle colonie aumentano di 15 le risorse e abbiamo preso 200 di energia che è cosa buona e giusta anche perché comunque ne produciamo 100 e non è poca ok le abbiamo sbloccate praticamente le abbiamo presi subito qui abbiamo finito di costruire no aspetta questo chi è è un eroe cristina cazzo un eroe su mac un eroe su mac questo lo voglio questo lo voglio tu diventi mio ti facciamo praticamente facciamo l'unità di fanteria meccanizzata o che figata ok si potrebbe fare unità di fanteria meccanizzata allora aspettate devo fare delle modifiche a questi qua questi li vediamo per forza modifica furification field ok allora per modificare tutte le unità praticamente dobbiamo spendere 12 di energia e 6 di di cosmite ok per idvar invece cosa possiamo mettergli ammunition allo di unit fai reflector munition which 8 con gli autocannon si cazzo ci vengono al momento non produciamo abbastanza cosmite per cui aspettiamo a farlo il dvar ram jet cosa possiamo il ram jet mi sarebbe interessante perché se li mettiamo l'aeron breaker modificator l'attacco mini by passa di tre l'armatura e in aggiunta questa mod garantisce all'unità un incremento del 10 per cento del danno con le abilità l'aerial ram è un'abilità per cui active ability vedete mai passa tutti gli scudi per glielo mettiamo save template ok possiamo dargli i nomi poi ovviamente ragazzi se avete idee per nomi o altro ditemelo pure allora vediamo te scusate primo controllo improvviso militare infrastrutture no dismantella no allora la città sale tra tre turni abbiamo un evento tra sette turni ok in teoria la felicità è buona perché abbiamo un più cinque per cui non siamo messi male produciamo però allora qua abbiamo sei unità di cui il nostro eroe è un bulwark 1 2 3 4 5 e 6 ok abbiamo sei unità pronte tra un bel po di turni come secondo esercito praticamente completamente meccanizzato e l'idea è che vada a supporto di questo ok tu intanto vai qua ok non abbiamo punti movimento tu mi vai qua difesa intanto per quel poco che puoi fare e tu attacchi questi facciamo un auto combat ragazzi non c'è voglia di buon perfetto abbiamo vinto l'auto combat ordini ricevuti allora voglio andare a vedere il laboratorio questi come potete vedere sono in ehm in aggiornamento se non sbaglio questo non so cosa voglio dire quelli co ah dovrebbero essere quelli modificati andiamo un po cosa possiamo metterli ancora sti cazzi vabbè no ci costano già un bordello adesso perché questo costa cinque di cosmite e ne abbiamo un bel po allora voi guarda non siamo in fronte ok lasciamola lì ordini tutti metti in guardia set production carmi a giusto vero dobbiamo pensare alla nostra nuova colonia allora centro ricreazionale difese e allora vediamo un attimo posti perché possiamo scegliere fermi un bui bombard defense canna nap defende con in tattica il com a no è solo in difesa vabbè allora possiamo scegliere solo o il reattore principale che ci da più 10 di energia o le bio farmi che ci da più 15 di cosa a me piacerebbe fare tutti i replicator factory perché produzione ce ne serve a manetta però sinceramente di scienza al momento non ne stiamo producendo molta ne abbiamo solo più 30 e mi piacerebbe anche perché questo se questo si prende questo facciamo un centro scientifico barracks il bombard cannon con quanto cosa non mi costa turni non c'è non mi costa mantenimento per cui lo costruiamo ok non mi costa mantenimento per quello costruiamo ricerche siamo a posto questo siamo a posto questo show destination non mi piace la destinazione al momento e non ho eserciti pronti al al combattimento al momento dobbiamo rinvigorire i nostri eserciti acquistare più settori e adesso dobbiamo attaccare questi cantini dovrebbe partecipare anche lui allora questi sono sono praticamente misti però questa me la voglio giocare ragazzi questa me la voglio giocare da ogni tanto un combattimento fatto per fare poi ditemi nei commenti se preferite che facciamo tutti i combattimenti in auto o se volete che facciamo ogni tanto qualche combattimento in manuale allora questi sono i nostri medici per cui noi portiamo avanti a cazzo aspetta perché adesso c'è anche questa nuova abilità sal plasma surge ok mettiamo mettiamolo in avanti scoperta tu vai qua e ti trinceri c'è di idem siamo la linea magino praticamente giratevi di qua ok cazzo ragazzi comunque il fatto che in anni si possano trincerare ev no ho usato troppi movimenti vabbè questi dirà c'è l'eroe questi li mettiamo qua cos'è questo a purification field è vero è vero ci abbiamo anche questo next unit non può sparare per cui li mettiamo in guardia 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 e voi restate qua ok ce li hanno cecati vabbè non è un problema qua ci tirano la granata ma siamo ragazzi non ci hanno tolto un cazzo su questi che sono fortificati ok allora voi prima cosa che fate vi fortificate e sparate su questi tu mi spari su questo tu scappi via e non lo voglio perdere il nostro medico lui potrebbe sparare ma c'è un 40 per no cazzo ci hanno tolto punti azione vabbè 40 per cento li abbiamo presi e vanno a fuoco 90 per cento perfetto li abbiamo fatti fuori 80 per cento buon perfetto l'abbiamo fatto fuori ok ottimo mi devo ricordare si usiamolo perché no scusate è tasto destro non voglio perdere il vedete che bello che si sono curati cioè ok flancato ci sta poisoning ok allora tu mi vai a curare questo ok tu mi attacchi questo allora quanto mi serve un punto azione se mi muovo qua ok no l'abbiamo mancato cazzo vabbè facciamo fuori questo critical hit perfetto non lo prendiamo allora per un turno non possiamo ancora usarla però io direi che cerchiamo queste e cominciamo a flancarle queste bastardi mi sa che essendo dentro il cespuglietto non le vediamo ok passiamo il turno le nostre unità vengono curate ed è tanta roba mi sa che questi ce li fanno fuori cazzo abbiamo perso un nano maledizione cannot beat target aspetta si teletrasporta e fa danno da fuoco figata mi dispiace aver perso un aneto cazzo e ci vendica ne abbiamo un altro di scorta in città ne abbiamo un altro di scorta in città vabbè era di livello di grado 1 per cui non tra virgolette mi dispiace però vabbè ci sta allora aspetta però che questo non non gli è stato fatto l'upgrade perché non è stato fatto l'upgrade select template questo ok perfetto extensive propaganda introduction unit gate 400 dovrebbe essere tipo ok perfetto abbiamo fatto la zona di sorveglianza research development perché poi voglio sviluppare qua la ricerca quanto manca one more colonist ok dobbiamo arrivare a livello 8 qua per prenderci questo che così facendo la ricerca è tutto allora resisted operation effective on skill usa strategy cooperation usa covert operation usa doctorium operation ok ok allora le dottrine sono quelle che possiamo una slot perché al momento ne abbiamo questa attiva ok le strategiche native treat locator allora vediamo come funziona ok le tattiche queste sono quelle che possiamo usare in combattimento e poi le useremo in combattimento confirm movement yup ok allora enter besti cazzi vanguard purifer vanguard purifer ages tank vanguard cioè sono di tier 4 tier 3 abort attack ci muoviamo di là cioè questo penso che ci metterò un po' a prenderlo questo settore però vabbè ragazzi ci sta questo è carino inabitabile montagna prospect sector non so se aspettare il secondo esercito 1 2 3 4 eh sì vabbè ragazzi cioè tra l'allero ci mettiamo una vita a farli tutti andiamo a vedere qua cosa c'è entriamo difesa loro è mille e dieci attacco nostro è 884 allora hanno attacco velenoso possono rianimare sono biologici sono di tier 3 no aspettiamo l'altro esercito ragazzi non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare andiamo dietro al karimsh ci mettiamo in difesa ok target 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 ok 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 praticamente si fa vedere dove sono ok possiamo annettere un altro settore perfetto centro di ingegneria spaziale ha la sua milizia vi ricordo che comunque sono difesi possiamo farci questo upgrade abbiamo un imperial resource center che ci dà più 20 di ricerca e più 2 slot per cui dovremmo aumentare la ricerca molto velocemente e si qua facciamo il allora qua se non mi sbaglio abbiamo come politica quella dell'agricoltura esatto qua faremo la politica della ricerca ok prospettare questa zona ci ha dato 15 e 15 ok abbiamo finito sia il walker che l'insediamento che la cosa per la felicità qua per cui mi va molto molto bene devo dire al momento ragazzi stiamo in difensivo perché ci serve assolutamente il secondo esercito per schiacciare le forze rivali druzes what the fuck allora ah no abbiamo fatto la ricerca allora strategic operation sustain vabbè non mi interessa possiamo fare le iron cloud division che sono cazzo unità navale di livello 3 allo speronamento e il cannone e new naval technology ok ok electric magnetic no facciamo questo che aumentiamo mi interessa aumentare le armature al momento per le unità allora deploy trans questo è strategico ci costa 80 di energia e 8 di questi che però ne abbiamo due non so come facciamo zanno factor override praticamente aumentiamo la produzione della colonia di più 30 ma diminuiamo la felicità di 4 la felicità più 3 perché mi sa che aumenta con l'ankip anche per 8 se più unità abbiamo più la felicità diminuisce che palle qua invece un'ankip per 3 vabbè vedremo un attimino come comportarci è che non possiamo neanche fare un bordello di eserciti come vogliamo noi cioè non non possiamo neanche concentrarsi su quello dobbiamo stare veramente molto molto attenti nella gestione delle unità confirm movement si tu mi vai qua mi prospetti la zona perfetto poi dobbiamo andare a controllare questa zona qua ok tu resti in modalità guardia al momento in attesa e passiamo il turno ok un comandante sconosciuto ha sbloccato il pioniere ok cazzo vabbè poteva esserci eh ok perfetto vedete possiamo sbloccare la ricerca eh nella zona del settore ok poi nel settore possiamo costruire un edificio o che ci aumenta la ricerca militare o che ci aumenta la ricerca della società aspetta che però noi dobbiamo per cui in teoria upgrade sector esatto ok ok ah cazzo aspetta possiamo allora noi abbiamo sbloccato questo che ci viene dato in automatico e questi si possono fare gli upgrade dobbiamo scegliere questo ovviamente andiamo sul militare non so se posso fare anche questo dopo devo guardare si no no possiamo farlo possiamo farlo mettiamolo in lavorazione ok abbiamo guardato anche quello non abbiamo guardato questo al momento e lo sviluppiamo abbiamo fatto un'altra unità qua perfetto controlliamo un attimo la ok siamo ancora più 3 siamo ancora più 3 perfetto siamo comunque in positivo la cosa mi va bene abbiamo finito la struttura militare qua ok 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 praticamente la produzione di cibo è aumentata del 100% in questo turno ok ah bene 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 possiamo annettergli il primo settore allora il primo settore per lei ah si abbiamo detto questo annette to karmish perfetto perfetto ah scusate la ricerca non l'abbiamo selezionato questo cosa ci da fenix l'inizio protocollo azarda removal river exploitation botanical garden ok facciamo l'energy che così abbiamo tutti i settori potenziabili anche perché no qua facciamo produzione si qua facciamo produzione anche perché reinforcement factory tutte le unità prodotti qua hanno più un'armatura tanta roba tanta roba vabbè al momento passiamo il turno dobbiamo aspettare che ci arrivi l'altro esercito ragazzi prima di poterci muovere anche se in teoria benissimo abbiamo what allora i cuckoo vabbè secret technology meno 200 reputation neutral meno 75 stay out of my way tarfon is the beautiful you are present the swarm no cioè già che sei uno swarm sei distante dalla mia dalla mia città mi sei sulle balle ok abbiamo costruito tutto vediamo un po' possiamo giustamente fare l'improvement del settore ok aspetta possiamo selezionare una di queste cose civile engineering meno 10% ai costi di produzione per la colonia 10% core skirmishes and specialist units including mod reinforcement factory tutte le unità prodotte in questo settore allora questo dovremmo poterla fare in automatico cioè ex lo dobbiamo selezionare andiamo di militare e poi questa ok però stavo dicendo con questo noi potremmo andare a depurare questo settore direi di sì allora abbiamo prospettato perfetto the warmong enter a world with another player ok reward riceviamo due riceviamo un'unità di tier 2 ok empire tax unlock non mi interessa ordini vai a prospettarmi questo ok fine del turno facciamo l'ultimo combattimento ragazzi e poi anche per oggi direi che chiudiamo ok perfetto abbiamo fatto un altro walker praticamente questa sarebbe la mia formazione ideale tra virgolette per warhammer che poi bomb max sicuramente mi piglia la per il culo praticamente esercito principale di fanteria esercito secondario di rinforzo andiamo qua e facciamo fuori questi autocom sono trecento di potenza ok prendiamo 136 di energia mi va molto molto bene rimaniamo qua vediamo un po' per annettere questo settore servono ancora tre colonist allora build a forward base which give you your own ah ok praticamente sono tipo basi difensive che ci permettono di difenderci cazzo ragazzi da 30 siamo passati a 70 di ricerca non è malvagia va buono dai ragazzi direi che è tutto voi fatemi sapere come volete procedere o altro vi ricordo cosa che mi sono dimenticato ma comunque vi metterò il link in descrizione tutto ho creato il canale telegram per cui se volete unirvi a me ben volentieri ci sono anche siamo in 17 adesso per cui se volete interagire con noi non ci sono problemi ovviamente come scriveremo su discord scriveremo anche su telegram per cui sarete aggiornati su una parte o dall'altra questa settimana telegram è in sistemazione per cui se vedete che compaiono spariscono video informazioni o altro non vi preoccupate perché stiamo cercando di sistemare il bot o altro comunque dal telefone è tutto un salutone alla prossima ciao